L'ospedale di Cattinare a Trieste ha ricevuto una donazione per nuovi strumenti di diagnosi. Si tratta di due ecografi e di un sistema di biopsia mammaria. A consegnarli la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste è andata per noi a Navitaliani. La paziente arriva con una semplice anestesia locale, un unico ago, fa più prelievi contigui al seno e in 30 minuti la visita è fatta. Un semplice esame in ambulatorio, niente più intervento chirurgico per la biopsia alla mammella. L'ospedale di Cattinare a Trieste grazie al nuovo macchinario donato dalla Fondazione CR Trieste da 67.000 euro. Maura Tunuti, responsabile della senologia radiologica. Ci permetterà di fare delle biopsie per noduli o lesioni mammarie, dubbie o sospette, alle pazienti sotto guida mammografica in tempi rapidissimi. Si tratta di un macchinario che di fatto integra un sistema già donato l'anno scorso dalla Fondazione stessa al mammografo in 3D che permette di salvare in media 3 donne ogni 1000 e soprattutto riduce i richiami. Maria Sunta Cova, direttrice per la diagnostica. In questo modo noi oggi possiamo dire di disporre del top della tecnologia sia per quanto riguarda mammografia, sia per quanto riguarda ecografia, risonanza magnetica e adesso anche il sistema di biopsia. Donati sempre oggi dalla Fondazione per un valore di 91.000 euro, due ecografi, uno per la terza medica, l'altro per l'urologia. In questo reparto in particolare l'ecografo non è un macchinario scontato, anzi, e i medici che lo utilizzano sono particolarmente preparati a farlo perché, ci spiega Carlo Trombetta, direttore della clinica urologica, Trieste è una realtà d'eccellenza per la capacità d'utilizzo dell'ecografo in urologia, tanto che quest'anno è appena iniziato un master di secondo livello per medici specialisti provenienti da tutta Italia. Avere un urologo che è in grado immediatamente di farti la parte diagnostica significa accelerare i tempi diagnostici, talvolta grazie a questa tecnologia siamo in grado di fare delle procedure interventistiche che vengono fatte tutte con l'ecografo.